Il 25 settembre 2015, i 93 Paesi membri dell'ONU hanno sottoscritto un programma d'azione per il pianeta Terra. Un programma inclusivo, che punta a non lasciare indietro nessuno, che intreccia i bisogni del presente e del futuro, fondato sulla sostenibilità. Si chiama Agenda 2030. Il mondo può diventare un posto migliore tra dieci anni. Carestie, cambiamenti climatici, disparità di genere sono ancora oggi problemi che sembrano insormontabili. Ma, come disse Nelson Mandela, sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. Per far diventare il mondo un posto migliore, sono stati individuati 17 obiettivi, i Goals, che permetteranno di raggiungere un totale di 169 traguardi. La più grande svolta che porta l'Agenda 2030 è rappresentata dalla messa in discussione degli attuali modelli di sviluppo e di crescita economica. Ma si supera anche il concetto che la sostenibilità sia legata solo alla questione ambientale. Gli obiettivi e gli traguardi dell'Agenda 2030 devono essere i passi da percorrere verso un cambiamento globale. Gli obiettivi e gli traguardi dell'Agenda 2030 Gli obiettivi e gli traguardi dell'Agenda 2030